Ciao, sono lo chef Emanuele Cucchi, chef executive di Maison Milano a Milano. Oggi vi presento una ricetta fantastica del nostro menù vegetariano che dovete guardare insieme alle performance dei nostri artisti. Esattamente come stare a Maison un venerdì e un sabato. Crostone pavese con uovo poché di Maison Milano. Per fare questa ricetta bastano pochi e semplici ingredienti. Metto in una padella olio extravergine di oliva, dei funghi tagliati ben fini e un pochino di prezzemolo. Porto a bollore acqua con aceto e sale, faccio un movimento rotatorio e ci butto un uovo per farlo diventare in camicia. Faccio tostare una fetta di pane. Siamo pronti per l'impiattamento. Prendo la bella fetta di pane tostato, adagio sopra una bella quantità di funghi trifolati, il mio uovo in camicia e decoro con due fettine di tartufo nero. Se volete, potete completare la ricetta anche con un bel brodo vegetale. Buon appetito! E godetevi il nostro spettacolo. Hashtag Maison Milano brilla per te. Hashtag io resto a Maison. Ciao, a presto!